La Repubblica delle Libertà ha un passo dalla bancarotta. È una vera e propria emergenza liquidità quella che sta vivendo San Marino in merito alle casse dello Stato che nei prossimi mesi arriveranno a contare poco più di un milione di euro di denaro disponibile. A lanciare l'allarme è Simone Celli, il nuovo segretario di Stato addetto alle finanze, che spiega come, a fronte dei 26 milioni presenti nelle casse a gennaio 2016, sia di appena 8,9 milioni la somma prevista per giugno 2017. Se consideriamo che di questi 7,5 milioni sono vincolati per mutui, allora il conto è presto fatto. Rimane in cassa il famoso milione che fa tremare la Repubblica. Basti pensare che ogni mese gli stipendi del personale statale ammontano a 12,5 milioni di euro. Dovremo mettere in campo politiche coraggiose e intelligenti, avverte Celli. Sono certo che ne usciremo e garantiremo stipendi, pensioni e l'erogazione dei servizi sanitari. La liquidità è il problema più urgente, ma non l'unico. Da tenere d'occhio c'è anche il debito pubblico che è arrivato a 247 milioni per effetto del salvataggio operato nei confronti della Cassa di Risparmio, senza contare l'enesima tempesta sul fronte bancario che ha causato il recente commissariamento di Asset Banca. Insomma, anche a San Marino, come in Italia, i soldi vanno a finire negli istituti di credito e potrebbe essere proprio l'Italia a dover mettere una pezza nelle tasche bucate del vicino di casa, con quella che il ministro chiama forma minimale di finanziamento esterno, un prestito fatto dalla Cassa Depositi simile a quello effettuato già negli anni 90, finanziamento per il quale San Marino ancora paga gli interessi.